buongiorno ben ritornati sul mio canale youtube si gira si va allora oggi volevo parlarvi di una cosa che tante volte facciamo un viaggio chiudiamo gli occhi e trasportiamoci nel mondo dei sogni ogni tanto andiamo via da questa realtà andiamo in un sogno dai c'è campanellino che ci sta aspettando ci deve portare sulla barca sul veliero di capitano uncino c'è Peter Tapan che ci aspetta dai andiamo in un mondo dove non c'è malvagità malignità gelosie invidie dove tutti ci vogliamo bene dove tutti ci abbracciamo dai facciamo questo sforzo chiudiamo per un attimo gli occhi immaginiamo di essere lì in questo momento e poi ogni tanto riflettiamo che sarebbe un mondo anche con musichette sottofondo che ogni tanto si azionano sarebbe un mondo molto bello direi speciale un mondo forse fantastico direi bellissimo che purtroppo tante volte nella realtà non c'è quindi sognare per un attimo non fa mai male anzi certe volte staccarsi un po dalla realtà e disperdersi nei sogni è una cosa fantastica una cosa magnifica e io con questo vi dedico il mio saluto questo di volta ho fatto un video un po più breve ma volevo proprio dirvi queste mie parole che mi vengono dal cuore perché ogni tanto mi chiudo in me stesso come un riccio perché io mi perdo nei miei pensieri nel mio mondo fantastico ogni tanto è bello è bello così poi si ritorna nella realtà si ritorna nella vita attuale però sognare per un istante non fa male ciao ragazzi io vi saluto da eglio e ci vediamo nei prossimi video sul mio canale youtube e spero che mi capiate quando parlo forse perché certe volte qualcuno mi dice che non mi capisce quando parlo comunque io vi saluto e vi auguro una buonissima giornata una buonissima serata e ciao scappo vado ciao ciao il mio aschi è sempre qui il mio cappellino da aschi bello eh ciao ciao